Non so cosa abbia Ragazzi Il video nel video del video Quanto è quotato Che non si accende alla prima 10 Sì ma fa very fucking caldo Eh Minchia a questo video qua so già che sarà un bordello da editare Cominciamo ad aprire la benzina Se no si accende mai Io quando lui parte Io accendo la moto Dato che stiamo registrando Sta arrivando la macchina chi è Guardate muoviti Ovvio Mi rompe il cazzo No Dio Sono in riserva Ah ma forse Ah ma ero in quarta Ma Dio Allora Reghi Perfetto Ci siamo Oggi siamo qua Con questo giretto in enduro Stiamo andando a fare un bel giretto La moto di Lollo C'è un po' di problemi Però vabbè ci sta Allora essendo che io non ho le frecce E devo fare strada Dall'inquadratura di Cince Si potrà vedere quanto cazzo sono mongoloide Allora essendo No Oh 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 Non so cosa abbia Aspetta Non so che cazzo abbia La benzina è aperta Si la benzina è aperta Però si è anche spenta Sì d'accord C'è tutto qua Che odio quando ci sono i sassi Qua la stradina Allora 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 Mi fa male i coglioni Eccoci qua Mi sta buttando Meno male che c'era la pedalina Fermati Hai visto che sasso enorme che c'era Porco Mi ha preso dentro la pedalina Mi sono cagato sotto